Mezzo miliardo di utile, il boom dei pacchi mette le ali alla trimestrale di poste italiane. Il primo trimestre di poste italiane nell'era di The Connecting Platform parte con il piede giusto. Con ricavi superiori a 3 miliardi e contributi da tutti i segmenti di business, il gruppo guidato dalla Di Matteo Delfante ha infatti realizzato aumenti del 14% del risultato operativo a 706 milioni e del 16% dell'utile netto a 501 milioni. Sono questi i primi numeri calcolati al netto di plusvalenze nella gestione del portafoglio BTP, figli dell'esecuzione del nuovo piano strategico 2024-2028 e prodotti dalla costante attenzione sui risultati commerciali e dalla razionalizzazione dei costi. Abbiamo conseguito risultati di qualità su tutti i fronti e da ciascuna delle nostre quattro unità di business, ha sottolineato la Di Delfante presentando i risultati agli analisti internazionali. Adesso, ha aggiunto, è necessario continuare ad attuare il piano in modo rigoroso, con un continuo focus sulla razionalizzazione dei costi per mitigare l'impatto dell'inflazione. E mentre il nuovo piano dispiega i suoi effetti, la più grande piattaforma FIGITAL d'Italia continua ad investire massicciamente nella tecnologia, con l'obiettivo di migliorare costantemente l'esperienza e la fedeltà dei suoi 30 milioni di clienti.